Io faccio proprio un appello a che il cittadino denunci, quindi io capisco lo sfogo su Facebook o sui social, chiaramente non sto qui a dire che non ci sia questa libertà, però io spero che ci si creda veramente nel fatto che noi possiamo veramente prendere in flagranza queste persone e sfruttando anche i numerosi rinforzi che abbiamo sul territorio, finalmente anche d'estate, anche nell'entroterra che è il 45% del territorio del Comando Aruncella di Rimini, abbiamo il 23% di pattuglia in più, quindi prima di lanciare il posto su Facebook fate 112, ci date immediatamente il luogo e la descrizione e noi saremo in grado di intervenire e prenderli in flagranza, perché ultimamente ci sono state delle false notizie, date un pochino dall'allarmismo delle persone che hanno pensato, interpretando semplicemente dei movimenti di uomini sul territorio, che ci fossero degli arresti o in questo caso erano magari anche delle notizie positive, paradossalmente, perché potevano essere stati presi dei ladri, ma altre volte c'è un allarmismo al contrario, che, credetemi, a volte non è giustificato veramente dal numero delle denunce fatte. Quindi io invito la popolazione della bassa Valmarecchia a fare come quelli dell'alta Valmarecchia, che ci chiamano immediatamente.